Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio di settimana e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Tra pochi giorni scatterà il pagamento delle pensioni di dicembre 2024, l'ultimo ratio dell'anno molto importante in quanto conterrà la tredicesima per tutti i pensionati, la quattordicesima per chi rispetta il requisito anagrafico dei 64 anni compiuti quest'anno e compiuti dopo il 30 giugno e il bonus tredicesima per i pensionati al minimo. È possibile che arrivi il pagamento con anticipo, vediamo insieme tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Dunque, tra pochi giorni ci accingiamo a ricevere il pagamento delle pensioni di dicembre 2024, ultimo ratio dell'anno che conterrà tredicesima, quattordicesima e bonus tredicesima per alcuni pensionati. Secondo il calendario IMSS, il pagamento partirà il 2 dicembre, sia per chi utilizza la banca che la posta come metodo di ricevimento. Come detto in apertura di video, è però molto probabile che ci sarà un anticipo, anche se lieve. Per chi arriverà a questo anticipo, per tutti i correntisti di banco posta, i pagamenti dovrebbero essere disponibili già dal 1 dicembre. Questo avviene spesso in quanto il primo del mese cade in un giorno festivo o di domenica, come accade proprio per dicembre. Non è da escludere anche che alcuni istituti bancari, come detto nei nostri precedenti video degli scorsi mesi, anticipino il pagamento. Ad esempio è solito anticipare Unicredit Banca o anche comunque altri istituti, ma in questo caso non è assolutamente certo. Ricordiamo infine che dicembre sarà l'ultimo mese con la rivalutazione 2024, in quanto dal 2025 scatteranno le nuove percentuali di rivalutazione che porteranno lievi ritocchi alle pensioni. Come sempre, se avete dubbi o domande, fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video e non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie.